Lo avete riconosciuto vero? Benvenuti a questo nuovo video ragazzi. È l'agosto del 2011. La Juventus acquista un giovane cileno semisconosciuto. Il suo nome è Arturo Vidal. La Juve paga ben 10 milioni e mezzo al Bayern Leverkusen. L'impatto di Arturo Vidal sul campionato italiano è incredibile. Si prende subito il posto da titolare in mezzo a campo con Pirlo e Marchisio. Gol ed assist. In quattro stagioni vince quattro scudetti di fila. Fino al 2015 quando decide di tornare in Germania, questa volta al Bayern Monaco. Oggi Arturo Vidal, a distanza di nove anni esatti dalla prima volta, torna in Italia. Dove ritrova il suo amato Antonio Conte, colui che ha definito l'unico che porterebbe in guerra con sé. Ad aspettarlo però non ci sarà la sua ex, la Juventus, ma bensì un nuovo amore, l'Inter. Un guerriero per l'Inter, un guerriero dentro e fuori dal campo, come dimostrano le parole al miele dei suoi ex compagni del Barcellona, messi e suare su tutti, che hanno salutato il cileno con dei post su Instagram. Adesso Antonio Conte ha il suo pupillo, non può più lamentarsi. La sua armata ha un guerriero in più. E che guerriero! Al prossimo video ragazzi! Al prossimo video!